Il Gino Zamboni Il Gino Zamboni Il Gino Zamboni Il Gino Zamboni Allora ne abbiamo parlato insieme con lui, è che l'è lenta, è che non si va qui, è che ogni volta che la roba è là, è che dopo bisogna tornare, era scocciato. Allora io dopo quando l'ho rossiato ci ho ripensato e per combinazione mi è capitato in mano uno scritto che parla di un convegno che c'è stato, mi pare in Germania, non so dirvi di preciso, sulle magistrature europee. Cioè la visione dei magistrati germanici, degli austriaci e della Francia. Adesso non ricordo bene che cosa è emerso. La cosa che mi ha stupito, perché noi italiani ripeto tutto quello che è di casa nostra è uno schifo, invece ho scoperto che sia i tedeschi che gli austriaci, i tedeschi, 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 auspicherebbero che in Germania e in Austria ci fosse il sistema amministrativo, aiutatemi, il sistema gestionale della magistratura italiano. Non mi sono fermato. Ho chiamato il mio amico parisico di Mario Sandro, fammi la cortesia, vedo Sandro Lariva, che davo l'ho scritto, lezi. L'è rimasto stupito. Perché? Perché effettivamente si dice più volte che il sistema giudiziario italiano, lasciamo stare la lunghezza, che è quello che dipende dalle leggi, dicono i tedeschi e gli austriaci, ma il sistema giudiziario e l'indipendenza della magistratura italiana è invidiata. Mica sopra le robe positive che ho detto più volte che bisogna... Oh, i tedeschi e gli austriaci dicono che il sistema giudiziario italiano è il migliore. Dico, ragazzi, allora dobbiamo allora in questo caso scindere, bisogna scindere. Uno è il sistema, cioè il consiglio superiore della magistratura, i trasferimenti di magistrati, eccetera. Un altro sono le leggi che questa magistratura deve seguire. Allora emerge che il sistema italiano ha un sistema giudiziario ottimo dal punto di vista delle carriere, dei trasferimenti, delle punizioni anche, ma ci sono una serie di leggi malmesse, un numero di leggi così infinito di provvedimenti e poi contrastanti, di difficile interpretazione, per cui la magistratura italiana non funziona non per la sua organizzazione interna, ma perché ci sono queste leggi civili, anche penali, che non sono ben fatte. Ed è emersa anche una cosa che io sono rimasto molto stupito, che in Germania ogni land, che sarebbe ogni regione, ha un suo tipo di magistratura. C'è un'elezione e poi un'altra cosa ho scoperto, che in Germania la magistratura non è così indipendente dal potere politico, perché è legata al potere politico, perché gli assessori dei vari land partecipano all'elezione del magistrato che andrà a coprire la carica di giudice. Quindi noi altri italiani qualche volta dovremmo guardarci anche in casa e dire, ma è possibile che vada tutto male? Altra trasmissione e altro giudizio positivo. Quello che veramente non funziona è il sistema politico di questo paese. Bisogna che i nostri politici, noi lo faranno mai, quindi finiamola qua perché parlare dei politici è una roba da fare senza fare in colpo. Alla prossima! Alla prossima! trave Grazie a tutti.